24 febbraio 2024 qui ci troviamo l'estrema periferia ovest del comune della marcia mi dice mi è brutetto e continua a salire e man mano che si sale è sempre più ripeto si però non c'è problema guardate un po qui a macchina dove ripete si questa qui quando cascate queste pescate qualche anno fa c'è roccia roccia per salire qui bisogna avere allenamento anche agilità non è facile nemmeno molti di pesi ma un certo impegno una certa difficoltà ed agilità ci vuole per salire qui continuo a salire si è sempre vicino ma se non è il tempo vedete dritto per dritto si è fatta cambiano la bocca e quindi tanti stanno massi di rocce che sono caduti e guardiamo il passaggio e comunque le marci bella